che soddisfazione il gol che apre il tabellino marcatori di questa partita poi c'è stato da soffrire ma alla fine tre punti che vanno all'atalanta che vanno a bergamo si siamo contenti per questo risultato tre punti molto importante per noi abbiamo tenuto tutta la partita abbiamo giocato bene sì in qualche situazione abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo giocato 90 minuti in questi 90 minuti abbiamo vinto e grazie a tutti i tifosi che stati con noi ho visto non è tanto ma abbiamo sentito prima di partita loro e grazie bergamo e questa vittoria per 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 voi per per loro e siamo contenti certo una classifica che si fa sempre più corta però in casa atalanta lo stesso gasperini lo ha detto non si vuol sentire la parola scudetto sì giusto per noi allora per noi è importante giocare ogni partita giocheremo adesso dopo quattro giorni contro via contro la squadra forte la classifica più stretta adesso e penso che per tutti anche per noi per per tifosi adesso il campionato più interessante se siamo lungo così più il livello di campionato cresce anche il livello adesso solo pensiamo per la prossima vincere qui è molto difficile sempre ma abbiamo vinto in questo momento è molto importante atalanta non si smentisce partita dopo partita andiamo avanti e quindi poi valuteremo dove saremo magari fra un po di match dove quando si potranno fare i conti adesso c'è il villareal tu l'hai detto partita importante partita da dentro fuori sì giochiamo a casa per un risultato dobbiamo vincere questa partita è sicuro andiamo forte in questa partita come sempre ora dobbiamo recuperare bene e preparare bene per questa partita ma importante che avere anche come contro juve contro napoli contro villera avere questa mentalità questa forza se e anche tecnicamente dobbiamo stare bene se facciamo questo tutto possiamo vincere queste partite